Bella di raga, allora questo è il mio nuovo compagno di avventura, mio nuovo amico, ecco che, compagno di avventura, mio nuovo amico, un conoscente per ora, che mi aiuterà alla riparazione della mia Volkswagen, per adesso solamente ripararla, poi in futuro costruire un Baja, Bahia, e lui, questa è la sua macchina, è un pick up Ford, Ford, FX4, è un bestione di macchina ragazzi, se non avete idea di quanto è alta, sembra di stare su un camion da quanto è alta, un vostro di macchina, cambio automatico, automatico, figata, figata, bellissima, e adesso stiamo andando a casa sua, che mi fa vedere la sua casa, la sua proprietà, le sue cose, la sua macchina, eccetera, e poi abbiamo comunque, vado qua dietro nel cassone, visto che è un pick up, ci sono le mie ruote, che le anteriori sono andate, pneumatici sono andati, vediamo se riusciamo a ripristinarli, se no ha detto che lui comunque ha due ruote da impressarmi per il momento, e niente, vi faccio magari vedere dopo la sua casa, se lui vuole, perché non lo so, insomma, casa, a quanto ho capito, è una villa, a 45 ettari di terreno, e ride, 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 è tosta la cosa ragazzi, tosta, tosta, e niente, adesso andiamo, ecco, lo vedete quel pick up lì, quello lì davanti, ecco, quello rispetto a questo, è un nano, è piccolissimo, è un bestione, mi prende tutta la caraggiata, tutta, va bene, è bella lì, Power Roby.